Oggi siamo a casa della signora Enza. Signora Enza, come si chiama questo piatto? Cozze ripiene. Quali sono gli ingredienti? Dunque, per il ripieno è necessario pangrattato, pecorino, sale, pepe e io ci ho aggiunto la cipolla. Di solito non si mette una cipolla, però di mio ci ho aggiunto una cipolla sia nel ripieno e sia nel soffritto. Qual è il primo passo della ricetta? Il lavoro più fastidioso è quello di rendere pulite le cozze, perché di solito le cozze hanno alcuni depositi calcari esternamente e anche la pelluria. Allora bisogna raschiarle e ovviamente pulirle, grattarle con il coltello oppure addirittura con una retina. Poi bisogna aprirle in questa maniera, in modo che la cozza sia divisa in due. Una volta pulite e aperte si passa a riempire le cozze e a chiuderle con un filo di cotone. L'importante è non far uscire il composto e poi si chiude in questa maniera, in modo che le cozze non si aprano nella cottura. Adesso si passa alla cottura. Prima prepariamo il soffritto. Cipolla, ci mettiamo l'olio intero, prezzemolo e ci aggiungiamo pomodoro. Che deve essere come? Il pomodoro può essere polpa o pelati passati oppure i pomodori fatti in casa, pomodorini. Ci mettiamo un po' di pepe, qui il sale ovviamente ce lo mettiamo e poi ci aggiungiamo le cozze. Quanto rimangono a cuocere? 10 minuti. Questo è il piatto finito e possiamo garantire che il risultato è davvero ottimo. Quello? 8 minuti. Quindi programma, intero.